ciao a tutti i dream like moon vi da il benvenuto al nuovo episodio di mangiamo fuori ma altro che fuori qua salim e dara sono tappati in casa a badare ai tre bambini perché si volta scorsa dara ci ha fatto la sorpresa e ci ha regalato tra virgolette maya nala e lucas e quindi si adesso sono genitori molto impegnati il ristorante se lo stanno scordando ma volevo comunque fare un altro servizio oggi per guadagnare abbastanza soldi per soprattutto ristrutturare la parte che avevo detto e fare la loro area riservata in modo da poter portare lì anche i bambini insomma averli con noi anche se adesso sono ancora piccoli per cui chiameranno una babysitter o andranno all'asilo adesso vediamo comunque non ci sono più orari in questa casa salim è sveglio da un po anche se è l'1 e 40 praticamente ha dormito tipo tre ore e poi vabbè e lo mettiamo a fabbricare un altro letto singolo perché chiaramente dobbiamo rassicurarci che tutti abbia non possa dormire quando diventeranno grandi e quindi vabbè mentre dara si riposa anche lei ha lavorato tanto non c'è più nessuno in lacrime mentre dara si riposa salim va avanti però non mi ricordo quanti altri letti aveva fatto perché io ho fatto qualcosina anche off camera ha per cui ok ci serve solo un altro letto poi ha fatto un letto matrimoniale e poi vabbè abbiamo un'altra sedia e vabbè altre cose che al momento direi che siamo a posto quindi intanto i letti poi si avanza tempo si avanzano energie si avanzano pezzi soprattutto anche se sto raccogliendo tutti i pannolini eccone qua un altro faremo anche tutto il resto per cui l'arredamento questo lo aggiungiamo il guardaroba così abbiamo anche tre berretti per i bimbi poi dara ha fatto un altro portavasi pensile era l'ultima cosa che ci mancava da fare per il ristorante poi dovrà fare più che altro penso ancora decorazioni se non sbaglio e poi con il ristorante dovremmo essere a posto se non migliorie dal punto di vista estetico per cui lasciamo salim lavorare mentre dara si riposa vabbè che potrebbe anche alzarsi dara effettivamente dai alzati vai farti la doccia finché nessuno piange ecco si è svegliata flirtante e qua c'è la nostra il nostro fiore della morte e chissà quanto tempo impiegherà a crescere però io presumo che tempo che cresca facciamo l'ambrosia dopodiché diciamo che cercherò di vendere appunto l'ambrosia ecco al fantasma e penso che la sfida finirà in quel momento per cui è solo questione di tempo ormai però intanto godiamoci questi tre diavoletti bacia lucas sulla fronte e anche maya dato che sveglia queste sono le tutine che ho scelto per loro ve li faccio vedere da vicino perché abbiamo i conigli e le lune per nala abbiamo i pianeti per maya e per lucas abbiamo il panda ups il panda su sfondo verde ecco si dara deve anche rimettersi in forma ma tempo al tempo con calma faremo tutto vai anche a prenderti qualcosa da mangiare dato che sembrano tranquilli al momento non parlo troppo forte perché non si sa mai questa scade tra 12 ore prendi una porzione sia mai sia mai e tra l'altro ho provato anche a farle fare un altro progetto a maglia però l'ho stoppata perché stava piangendo un bambino e poi non è più riuscita a riprenderlo nel senso che clicco sull'azione e non va avanti per cui buggato anche quello e vai allora salim tutti flirtanti oggi come mai vai qui allora lascia stare un attimo la pizza dara vorresti creare qualcosa di qualità eccellente ci si può lavorare guadagnare mille ma assolutamente sì e tu vorresti raggiungere la biblioteca purtroppo non sarà possibile ma dai un bel bacio a tua moglie per cui accarezza la guancia buongiorno tesoro buongiorno sono le tre di notte e poi e poi bacia vediamoci questa bellissima famiglia anche se sono stanchi sono felici non cambierebbero nulla della loro vita a parte vabbè completare il ristorante ma ci si lavora per ora sono felici io sono felice di come sta andando questa partita per cui tutto bene quel che finisce bene bambino e lacrime salim pensaci tu avrà fame avrà il pannolino sporco no perché l'ho appena cambiato per cui non fai vedere fai vedere a chi a cosa cura dei neonati nutri con il biberon e tu mia cara vai a prenderti quello che stavamo dicendo prima cioè un pezzo di pizza smettila di chiacchierare con salim che qua c'è da fare muoversi muoversi e poi appunto vediamo di andare al ristorante per cui salim ha fatto tutto quello che doveva fare li metto a riposare ancora un attimo e poi faremo questa benedetta apertura sì salim devi anche farti una doccia prima però se non succede nulla di che ci vediamo al ristorante mamma mia c'è l'orto che è un disastro comunque anche il giorno dell'amore non riusciremo a farlo già ve lo dico ma prepareremo insomma apriremo così le coppie innamorate oggi potranno venire al nostro ristorante cos'è che sta luccicando c'è qualcosa che luccica tra le mosche questa forse non vedo non vedo niente ecco fai evolvere e abbiamo un fiorellino sì che ce l'abbiamo allora raccogli uccelli del paradiso in modo che almeno si scambino questo e lei non ha tanto sonno però vai a dormire tanto poi ci penserà la giardiniera a venire a a sistemare l'orto e eccoci qua i bambini sono stati mandati all'asilo tu cambiati gli abiti che adesso apriamo mettiti questo e dara apri il ristorante e non ho visto che è arrivato comunque ho visto che è arrivato qualcuno con la coda dell'occhio ma rimettiamo il fabbricatore al suo posto perché il caro salim si darà da fare mentre dara sarà occupata con i clienti per cui mio caro fabbrica cosa potremmo fare adesso facciamo un tavolino e poi la prossima cosa sarà una lampada da tavolo per cui tavolino fabbricato cominciamo ad arredare la nostra futura casa cara vieni qui abbiamo un altro di questi da appendere sì esattamente dopo oddio non mi sono accorta che era completamente diverso dagli altri vabbè fa niente e lo mettiamo qua poi per quanto riguarda le decorazioni siamo rimasti a due cuore ah no le decorazioni sono a posto dovremmo in teoria mettere le sedie che mancavano dovrebbero esserci tutte adesso no manca una sedia per cui salim prossima cosa sedia però intanto questa si può mettere e vabbè e questi sono vabbè letti intanto li teniamo nell'inventario però almeno c'è il letto per loro due e appunto come dicevo a fine servizio smantellerò questa zona qua nel senso che la chiuderò e la renderò privata per loro e poi appunto mancherebbero qua quanto costano questi costano e 300 l'uno ma vabbè cos'è che sto intersecando niente e ce li compriamo per forza perché era l'ultima cosa che mancava e qua non ci sta perché ah sì che ci sta eh cavolo se ci sta è sopra le luci ci sta ovvio e guardate che bell'ambientino rilassante sta venendo certo poi manca ancora un po' di lavoro con le fontane però non so se ingrandire vabbè adesso vediamo manca ancora un po' di roba da fare qua mancano sicuramente lavandini li aggiungeremo quanto prima alla fine di questo servizio vediamo quanto avremo guadagnato e di conseguenza eh faremo allora gestisci perla chiedi come va al lavoro perché avevamo detto che dovevamo fare un giro di eh promozioni per cui manteniamo le promesse promozione a tutti gestisci promuovi a cameriere di livello 4 uku si puoi permetterti il giardino il nano da giardino frog promuovi a cameriere di livello 4 poi la nostra nalani promuovi non degrada promuovi a chef di livello 4 assolutamente e anche le nostre giovani per cui abbiamo la nuova chef promuovi a chef di livello 3 e anche la nostra cameriera ma tu sei stato lì a pulire mezz'ora e deve finire lei il tuo lavoro vabbè lasciamo perdere promuovi a cameriera di livello 3 perché ogni promessa va mantenuta oh stanno arrivando i nostri clienti sì 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 promozione a tutti benvenuti benvenuti benvenuta catrina dai il benvenuto e anche a lui dai il benvenuto la bambina diamo a lei il benvenuto eh sì potete permettervi tutti quanti nani da giardino in teoria dovremmo essere a posto con le promozioni dai il benvenuto e dai il benvenuto sarei mai finito? molto bene no 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 non leggere fabbrica tu vieni qua stai qua tutto il giorno tutto tutto bisogna terminarlo questo ristorante avremo abbastanza parti vabbè che darà riciclato un bel po' di cose però è vero che si esauriscono abbastanza in fretta e qua non stiamo andando benissimo come mai questa cosa a livello 3 sempre? tu non hai stelle come mai? figure di serie B lei lei riserva è riservata sul voto è arrivata se n'è andata ciao eh ciao va bene allora anche se presto chiedi come va la situazione al tavolo cioè appena è arrivata falla sedere ma perché nessuno si sta sedendo ragazzi? che problema avete? no 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 pian piano si stanno sedendo vabbè allora andiamo dai nostri e e e e gestisci no non frog non volevo frog volevo lei paga per la formazione no mi sa che non possiamo più pagare per le formazioni brevi ma adesso dovrebbero essere a livello abbastanza alto da da non aver bisogno uh qua c'è qualcuno dai il benvenuto e controlla la situazione al tavolo dovrebbero essere già tutti a posto insomma fare esperienza sul campo lavorando per cui senza bisogno di particolari corsi di formazione qui non so come mai oggi c'è fan fatica a sedersi fanno fatica però diamo il benvenuto a tutti non possiamo a lei si Lily Feng dai il benvenuto Salim ti vedo come un'anima un'anima persa cosa stai facendo? no non giocare a sport incredibili abbiamo detto che adesso fabbricherai una lampada da tavolo che ne abbiamo già una qui però vabbè questa ci serve qua chiaramente ah giusto venderemo i letti a castello o o potremmo riciclarli che non sarebbe male per cui vabbè a fine giornata li tolgo per ora se proprio hanno bisogno di svenire tengo e Dara cosa stai facendo? dove sei? di preciso ah sai quando? davanti ai miei occhi bene allora chiedi com'è la situazione al tavolo arrivano i piatti vediamo come sono com'è il cibo eccellente è di Nalani eccellente e poi vabbè l'acqua come fa ad essere eccellente l'acqua cioè quello è è rubinetto casomai non il cuoco però Bakojang non ho capito perché non vuole sedersi vabbè ah giusto stanno festeggiando il giorno dell'amore ragazzi oggi per le coppie dessert gratis no non è vero non facciamo niente di gratis dai il benvenuto e controlla la situazione al tavolo Salim già finito? allora che mi dici di fabbricare ancora qualcosa? per esempio qualcosa che potremmo che potrebbe esserci utile è una sedia da soggiorno vai 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 non giocare ti prego fai come ti dico cioè Dara sta lavorando sodo è stata sveglia gran parte della notte fortuna che i letti sono aggiornati anzi a proposito di aggiornamenti potremmo aggiornare ecco l'autopulizia non sarebbe male per cui dai Salim quando hai finito questo dai il cambio ad Ara mentre lei aggiorna un po' tutto quanto e anche questo autopulizia ma Bakojang ha deciso di sedersi finalmente o non lo vedo è scappato va bene Salim appena puoi vieni qua a dare il benvenuto però siamo a 4 di stelle non siamo più a 5 non vedo più tanti 5 ecco ah grazie Lili grazie allora dai il benvenuto quando hai finito di fabbricare e qua direi che le nostre chef potrebbero sta già cucinando attentamente mentre la nostra Nalani ah normalmente va bene se vediamo che non riusciamo a stare dietro ai tavoli chiederò a loro di cucinare un po' più velocemente Nalani più che altro perché lei è più esperta e no tu lascia stare vieni qua a dare il benvenuto e dovremmo essere a posto non c'è tantissima gente dai il benvenuto e controlla la situazione al tavolo non c'è tantissima gente ma mi sa che mi sto perdendo anche qualche cliente qua no non me li sto perdendo e come mai oggi è un po' un po' così la situazione dovremmo incrementare anche la pubblicità vabbè ripeto vediamo la fine di questo servizio e poi eventualmente faremo tutto e tesoro cioè stavo stavo aggiornando e ho capito che dove andare in bagno ci sono altri due bagni qua cioè vedi tu vabbè vieni qua a dare il benvenuto a lei e controlla anche la situazione al tavolo quando la nostra cameriera ha finito con il bagno noi continueremo ad aggiornare il lavandino almeno qua non si sporca più niente e i nostri non perdono tempo con le pulizie dai signora Bernice mi dia benissimo un 4 loro li abbiamo salutati controlla la situazione al tavolo e dovremmo controllare anche qua però c'è c'è l'alberghini vabbè lascia stare un attimo l'alberghini e continua ad aggiornare con l'autopulizia mentre salim mamma mia salim cioè tu c'è una voglia di lavorare guarda che ti salta addosso controlla le situazioni al tavolo bello questo spazio cioè bello è bello non si può dire niente dai a parte qua forse che manca qualcosa ma ci inventeremo strada facendo perché cioè vieni cuori da una parte ma non posso metterli ovunque ecco cioè si posso ma insomma diventa un po' un po' triste tutto uguale tutto cuori vabbè che oggi è il giorno dell'amore evviva cioè tu adori spirito romantico e andare a un appuntamento va bene allora vieni qua l'appuntamento non possiamo farlo ragazzi non con tre neonati a casa anzi all'asilo però non con tre neonati dai il benvenuto e lui abbiamo fatto tutto ma non è contento lo stesso dara lascia stare vieni qua e sussurra parole parole dolci e dai no regala fiori ma proprio davanti al bagno dovevate andare ecco vediamoli eh sì giusto hai ragione anche tu lasciameli un attimo vedere dai in mezzo proprio ma insomma volevo fare una foto allora regala un fiore esprimi dedizione e poi certo che proprio in mezzo quella cameriera romantico affetto uh che dolce Salim ha davvero apprezzato di aver ricevuto simile gentilezze da dara nella circostanza il suo affetto l'ha fatto sentire un po' più speciale significa che Salim gradisce l'affetto in modo particolare sì loro sono cicipupu proprio e ma i fiori romantico affetto e vabbè diamo il regalo diamo il fiore dato che ci siamo potremmo anche dargli il giglio anche se ho raccolto gli uccelli del paradiso anzi l'uccello del paradiso lo do a Salim così anche lui ha da dare il fiore ad ara uccelli del paradiso qui perfetto quindi anche tu però adesso oh che carini questo è per te è del nostro giardino ma non ce l'avete le rose non è vero che è del vostro giardino oh tu sei la rosa delle mie giornate qualcosa del genere se possiamo accendere questa accendi questa luce non cambia niente vabbè io volevo una foto romantica per la copertina ma mi sa che mi tocca mi tocca rinunciare luci automatiche tutte le luci e quindi basta niente messaggio ah ecco leggiamo ogni giorno che viviamo insieme scriviamo la nostra favola il nostro destino è vivere per sempre felici e contenti ah sicuramente non ho dubbi a proposito vabbè Salim effettivamente ha un po' bisogno di divertirsi allora guarda commedie romantiche guarda un canale commedie romantiche che fanno parte del del giorno dell'amore no vabbè tu però devi ancora dare il fiore ad ara per cui romantico un'intimità affetto del regalo regalo scusate l'uccello del paradiso e poi vai a guardarti un po' di tv fai zapping mentre dara in effetti ha un po' di fame il signore qua non non possiamo far nulla qui c'è qualcuno che sta guardando il telefono dai il benvenuto poi andiamo a mangiarci qualcosa per cui guardate ragazzi cosa sto facendo apri è tutto un fiore qua apri e 18 giorni questo 4 giorni 5 giorni no 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 dara lascia stare lascia stare non dare il benvenuto a nessuno prendi una porzione e tu salim potresti effettivamente mangiare mentre guardi la tv per cui anche tu prendi una porzione e poi continui a guardarti la tv per cui fai zapping questo lo buttiamo questo lo rimettiamo via anche se abbiamo lasciato i nostri clienti un po' allo sbaraglio però oggi le 5 stelle uh c'è il critico c'è il critico piatto di pesce fritto eccellente benissimo allora dara non chiacchierare sbrigati a mangiare vieni qua e dai il benvenuto vabbè intanto ci sta pensando la nostra com'è che si chiama perla no grazie vieni qua a salutare il nostro critico per cui dai il benvenuto mmm questo ristorante mi sembra molto carino anche se è un po' frescolino in effetti ma si questo ristorante in fondo è un bel posto salve benvenuto dov'è il tizio vampiro si è seduto qua che probabilmente non è neanche un vampiro ma si trucca come tale forse cerca di attrarli vera cosa stai facendo dov'è che sei ah ecco brava salim lascia stare lavati il piatto per favore dai dai il benvenuto che qua il critico ma vai fuori a salutarlo va bene benvenuto signore mi scuso per la posizione ma è l'unico posto insomma com'è intanto com'è la situazione al tavolo com'è l'angolino salve alessio l'han trattata bene finora lei chi è vabbè sì diamo il benvenuto anche a lui oh mamma mia no tesoro stiamo lavorando venessa non si è più fatta vedere cioè abita di fronte di fronte letteralmente di fronte casa di venessa è questa per cui abita letteralmente di fronte a noi si è fatta vedere ma va almeno è quella è la casa di venessa sì perché non ci sono altre case per cui per farsi quella oh ma che carini ecco perché Salim era così vabbè Salim posa il piatto per favore hai finito va bene ripulisci tutto e dai priorità alle ordinazioni del tavolo vabbè adesso le 5 stelle stanno arrivando dopodiché controlla la situazione al tavolo e vediamo se qua c'è gente non c'è gente Salim che caspio stai facendo lì tutto a posto sì adesso tutto a posto guardati un altro po' di tv così almeno qua ti rilassi quando sei al ristorante ti rilassi non c'è più il casino delle dei bambini e il nostro critico cosa ha preso aspetta 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 foto 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 ha preso il minestrone eccellente e il vino eccellente benissimo buon appetito signore e lei è felicissima perla complimenti per l'energia che ci metti gestisci l'oda facciamo un giro di lodi a tutti quanti per cui gestisci l'oda 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 anche nalani e ci mancano loro due frog l'oda però non lasciarmi i piatti qua per favore e uku perché non mi lascia cliccare uku l'oda recensione da 5 stelle mangiare qui è stata una delle esperienze più notevoli della mia vita accidenti addirittura per un minestrone mi ha aperto la mente su quel che potrebbero davvero essere la perfezione i sapori di quel pasto del minestrone mi resteranno impressi per gli anni a venire e la madonna mangiati qui non è un consiglio è un ordine siete felici del tempo? bene ma qua non abbiamo dato il benvenuto controlla la situazione al tavolo Salim qua siamo un po' intasati dai il benvenuto smetti di guardare la tv che stai abbastanza bene e occupati dei clienti dai il benvenuto tra un po' chiudiamo anche perché è da un bel po' che siamo aperti e diamo il benvenuto anche qua gestione dai il benvenuto e controlla la situazione controlla ecco la situazione al tavolo abbiamo fatto quello che dovevamo fare io direi che non accettiamo nuovi clienti ceviche patatine di Michele ad Angelo eccellenti benissimo la nostra inizia ad essere ai livelli di Nalani per cui secondo me non dico che potremmo ancora aumentare la qualità dei pasti però quasi la formazione no abbiamo detto che quella accelerata non può più farla allora intanto non spendiamo altri soldi vedremo a fine servizio se sono migliorati beh è proprio un bello angolino questo mi piace tanto Salim sei contento dei nostri nuovi angolini proprio belli beh io volevo diversiare tesoro ti ho portata qua come un ostro ultimo pasto durante il giorno dell'amore vi immaginate no dai mi auguro che non sia per quello anche se parla di divorzio di gabinetti Salim non è educato vai via dai ragazzi ultimo un'altra critica questo fai tu controlla allora dai benvenuto controlla la situazione al tavolo controlla la situazione al tavolo anche qua e Salim poi dai la priorità all'ordine due critiche oggi cioè due due ci rendiamo conto ancora non possiamo dare la priorità Dara mi sembra un po' un po' persa vabbè ma sono sempre flirtanti questi due come si fa come si fa e Dara per favore non puoi davvero non puoi dare la priorità che peccato vabbè speriamo che arrivi un altro 5 stelle ragazza mia non hai famissima dai che stiamo andando alla grande cioè si completano le le tappe no non si chiamano tappe vabbè ci siamo capiti del giorno dell'amore da soli possiamo oh dai la priorità alle ordinazioni Dara vai a mangiarti qualcosa di nuovo adesso però possiamo prenderci qualcosa tipo uno spuntino ecco i biscotti spettrali nel giorno dell'amore mi pare ovvio mi pare giusto eh lo so che state cercando di avvertire la stanchezza però hai dato la priorità sì però vieni qua e loda anche tu puoi? no non puoi più chiedi come va il lavoro eh sì stanno cominciando ad avvertire la stanchezza ma abbiamo ancora solo la critica loro hanno finito mi piace lavorare qua e meno male Perla sei stata bravissima hai fatto un lavoro fenomenale stasera e qua anche hanno finito vabbè qua ci penseremo noi ho già capito e se qua ha finito no che non ha finito lo so che state tutti avvertendo la stanchezza però ragazzi oh per favore non farmelo cadere proprio davanti al critico che ci manca pochissimo oh finalmente sì lo so adesso potete andare a casa cos'è? cena base di prosciutto eccellente perfetto allora Dara vieni qua e vai a farti una doccia così intanto recuperiamo un po' di tempo tu vieni qua e lavati le mani lavati i denti e ragazzi quando ha finito la critica che è già 5 stelle possiamo finalmente chiudere non lasciatemi i piatti in giro vabbè che poi li raccolgo io però dai voi avete finito ragazzi dai finito no chiudiamo quando la critica ha finito signora però si sbrighi e mangiare che qua oh recensione 5 stelle genio non è una parola che usa la leggera ma questo chef è un genio ed è supportato da un personale eccellente questo ristorante mi è servito piatti che non avrei mai immaginato e sapore che avrei mai che vorrei avere sognato farò la mia la mia prossima prenotazione appena arriverò a casa mangiate qui per regalare alle vostre papille un'esperienza degustativa mai assaporata prima comunque mi sembra di averla già vista questa recensione va bene va bene allora chiudiamo chiudi come siamo andati oggi utile netto vabbè perché abbiamo un costo alto sugli ingredienti stipendi anche e questo mi fa pensare che dobbiamo aumentare i prezzi o mettere qualcosa di più di più costoso sul menu adesso vediamo un attimo allora gestione dei dipendenti a Nalania è arrivata al massimo la nostra Michele D'Angelo siamo lì lì però secondo me possiamo tranquillamente andare su piatti a 4 di di difficoltà perché ho visto che quelli attuali insomma se la cava molto bene con quelli attuali e vabbè loro sono tutti tutti molto bravi per cui nulla da dire quindi facciamo un po' di cose allora ricarico prezzo 2,50 vabbè intanto pubblicità pacchetto oro teniamo quello fortuna che pacchetto oro però porca miseria potremmo anche fare fascia alta di ingredienti però allora qua io aumenterei del 300% sinceramente vabbè teniamo così intanto non facciamo passi troppo lunghi ma modifichiamo il menu allora per le bevande ho eliminato quelle meno costose ma l'ho fatto anche per gli altri piatti ma ho mantenuto solo i vini più pregiati diciamo e ho inserito anche qualche cosa strana ma che in realtà potrebbe essere qualcos'altro tipo questo tau town peloso potrebbe essere birra per esempio questo succo e cose di questo tipo no così almeno hanno la scusa di ordinare cose già di per sé costose e spero che questo essendo una difficoltà uno su cinque me lo comprino che il ricavo è 2,10 poi per quanto riguarda gli antipasti ho fatto lo stesso ragionamento sono diminuito un po' i piatti tipo anche la zuppa di vongole potrei toglierne in realtà che costa pochissimo solo 66 teniamo solo da 77 simoleon in su stessa cosa per le portate principali per cui ho cancellato quelle meno costose ho tenuto quelle medio alte di difficoltà e soprattutto i piatti più costosi tipo la cena base di tacchino è 122 ancora non possiamo prendere i piatti più costosi in assoluto ma vabbè ci penseremo più avanti quando anche la nostra seconda chef diventerà molto brava allora sì che potremo veramente darci dentro con i piatti più importanti poi per quanto riguarda il dessert non ho cambiato perché tanto nessuno lo prende mai per cui vabbè sarebbero comunque dai 77 simoleon in su per cui a posto con il il nostro ristorante direi e ora dato che ci siamo volevo appunto rimodernare un po' questa parte vediamo quanti fondi abbiamo soprattutto dicevo quanti fondi abbiamo ecco tipo il ristorante 8000 l'unità familiare 4000 però chiaramente tutti i prossimi servizi saranno per la casa altrimenti non so dove metterli i bambini per cui vediamo che cosa possiamo fare allora velocissimo te la modalità costruisci perché adesso è notte non si vederbbe niente allora questa è la nuova zona si va completata però i nostri hanno tutto qui hanno anche la tv che a casa non si possono più permettere hanno due due poltrone hanno la cucina poi salim odara si occuperanno di creare il tavolo e le sedie qua abbiamo la zona notte intanto i bambini qua poi ci penseremo comunque ho messo questi che almeno occupano poco spazio qua vabbè il loro letto il bagno manca la vasca non so se prenderla subito ma penso di sì perché tanto i soldi sono abbastanza però questa è troppo grande volevo prendere qualcosa che vabbè tanto chi se ne frega questa non ci sta male però la finestra qua sta malissimo vedi la finestra che non ce ne facciamo niente piuttosto prendiamo un'altra luce e la piazziamo qua perfetto e questo stava bene lì e poi niente per quanto riguarda cioè l'entrata è qua qua non so cosa fare sicuramente su queste due pareti andrà qualcosa e e qua ho ridotto il loro spazio che tanto è il loro studio fondamentalmente anzi potrei anche togliere questa parete che non mi è mai piaciuta per davvero o spostarla qua facciamo questa prova insieme questa la spostiamo scusami la spostiamo qua si poi qua il fabbricatore ci sta comunque qui hanno l'accesso al loro bagnetto qua ci starà ancora il tavolo che vabbè adesso ho messo tutto nell'inventario così potranno lavorare anche da casa questi li ricicleremo per fare spazio ad altri mobili qua ho allargato un po' il loro bagnetto nella zona studio e qua ho aggiunto lo spazio per un altro wc questo è sporchissimo dovremmo farlo antisporco insomma come cavolo si dice e qua finalmente non posso dire di aver completato questi due bagni ma almeno ho dato loro una parvenza di bagno vero ecco ci sono anche i lavandini e direi che per oggi è tutto i nostri possono andare finalmente a casa abbiamo promosso tutti insomma dovremmo essere a posto per anzi andiamo direttamente a casa da qua per guadagnare la prossima volta anziché dover spendere e basta in teoria forse adesso con il menù sistemato dovremmo guadagnare un po' di più almeno speriamo altrimenti la vedo dura costruire il piano di sopra casa e far le camere per i bambini perché sì per forza bisognerà farlo poi magari i letti dei bambini li metterò nello studio farò diciamo lo studio un po' più ristretto e i letti dei bambini li metterò nello studio al ristorante intendo benissime nastri sono tornate a casa non vedono l'ora di andare a dormire in realtà allora andate subito a dormire meglio per voi così almeno recuperate un po' prima che comincino i vari pianistei io spero che questo episodio vi sia piaciuto la prossima volta vedremo i bambini più grandi salve le sembra questa l'ora di arrivare vabbè non poniamoci domande la volta prossima faremo crescere i bambini finalmente e li porteremo con noi anche al ristorante almeno adesso un posto per loro ce l'hanno speriamo anche che cresca il fiore della morte quanto prima se questo episodio vi è piaciuto lasciate un mi piace mi raccomando ricordatevi di iscrivervi se siete nuovi attivate la campanella aiutatemi ad arrivare a 2500 iscritti e restate fino alla fine del video per scoprire nuovi contenuti sul mio canale attraverso le schede interattive nella schermata finale per cui detto questo vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti